Papà! Albertina! Sempre più persone assomigliano a Einstein perché hanno scoperto la spesa intelligente da Eurospin. Aggiungendo prodotti aumenta la convenienza. In pratica più compri, più risparmi. E i soldi che risparmi da Eurospin li puoi spendere per goderti la vita. E io ho scoperto questa offerta. Caffè classico Don Heretz da 250 grammi in confezione da 2 a 2,19 euro. Eurospin, la spesa intelligente.